buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a fornite capitolo 4 stagione 4 giovedì 26 ottobre 2023 oggi video dedicato come ogni mattina alle novità dello shop giornaliero è uscita una nuova skin con il suo bundle che si chiama fedra festaiola andiamo a vederla insieme e poi vi parlerò del contest dedicato a questa skin appena arrivata sorge dagli abissi per fare festa eccola qui molto hippie questa skin tra l'altro con un non so che di venom 1700 v-buck per questo bundle con skin eccola qui tra l'altro cosa c'è su una maglietta sembra la testa di un'aquila non lo so fatemi sapere cosa ne pensate di questa skin che sembra che abbia il simbiote di venom con anche lo zaino e l'ombrello mi ricordano un bel po' il nostro amico venom la skin con il backpack 1200 v-buck se raggiungiamo i 100 like e i 2000 iscritti sceglierò tra i commenti chi commenterà appunto qua sotto al video con il commento fedra riceverà dal sottoscritto la skin in regalo quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina poi c'è anche l'emote vuoi ballare da 200 v-buck nuovo anche questa che tra l'altro non era nelle news quindi mi raccomando se volete partecipare al contest iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e supportate il canale con un like mi raccomando quindi spolliciate e condividete il video con i vostri amici quindi prima di chiudere il video con le novità mattutine dello shop giornaliero vi ricordo il 31 ore 16 mappa dedicata a Halloween un escape room horror con all'interno il codice di Harley Quinn o Spider-Man guerra 0 quindi mi raccomando attivate la campanellina così vi arriverà la notifica e potrete partecipare il più veloce si porterà a casa una di queste due skin mi raccomando fatelo così ci divertiamo insieme in questa nuova escape room a tema horror quindi io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto noi ci vediamo più tardi con una mappa creativa e vi auguro una buona giornata e un buon game a tutti grazie 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 a dopo ciao